Dieci anni. Sono passati dieci lunghi anni. Esattamente il 25 ottobre 2008 il mondo del tennis italiano si sveglia con la peggiore notizia possibile. Federico Luzzi, Davisman ex top 100 ATP, è morto sconfitto nel match più difficile, anzi impossibile, da una leucemia fulminante. Sempre difficile, ma allo stesso tempo semplice parlare di Federico perché alla comprensibile iniziale tristezza subentra subito il sorriso, quel sorriso che scaturisce inevitabile, dirompente, ricordando gli aneddoti in campo e fuori che riguardano Luzzi. Dalle luzzate, appunto, ai match di calcetto, passando per grandi vittorie, infortuni e tante tante avventure di vario genere che quest'oggi vogliamo farci raccontare dai suoi amici e colleghi che per tanti anni hanno percorso quel cammino così bello, difficile, coinvolgente, a tratti e asfissiante, ma sempre emozionante, che si chiama tennis. Il nostro cammino inizia dalla fine degli anni 90, 98 o 99, da un Federico Luzzi molto giovane e da un ricordo dell'amico Francesco Aldi, ex professionista e oggi stimato coach ATP. Allora, ci sarebbero tante cose da dire, ma poche se ne possono raccontare di aneddoti di fede, lui direbbe forse a quest'ora c'è ancora troppa luce per parlare di certe cose. Ti posso raccontare questo, che eravamo a Castelli Decima, dormivamo a Castelli Decima mentre eravamo convocati al centro tecnico di Roma, che ci allenavamo alle Tre Fontane, quindi dividevamo la camera lì e praticamente non dico ogni sera, ma spesso la sera ci addormentavamo, ci spegnevamo la luce, sempre un cd come sottofondo e per ammazzare un po' il tempo e aspettare che il sonno arrivasse, ci divertivamo a pensare di mandare dei messaggini a delle ragazze, quindi scorrevamo nella rubrica, nella nostra rubrica, un po' la sua, un po' la mia, lo facevamo a turno e cercavamo di immaginarci le loro risposte alle nostre domande, quindi anche noi muniti di foglietto e penna, scrivevamo almeno due o tre domande con le loro due o tre risposte e poi provavamo a vedere se ci azzeccavamo oppure no e devo dire che Fede in questo era un maestro e gli piaceva tanto leggere nella mente delle altre persone e questo lo faceva anche nel campo da tennis. Un ricordo di un Federico molto giovane arriva anche da Mosè Navarra che con Luzzi ha condiviso alcune sfide di Davis, tra cui l'indimenticabile trasferta finlandese di cui parleremo più avanti, ma soprattutto alcuni bellissimi momenti al centro tecnico di Cesenatico. Volevo condividere un ricordo con te su Federico, dato che cade il suo anniversario, ho avuto la fortuna di condividere con lui tanto tempo, anche esperienze molto belle e forti come quella in Coppa Davis dove siamo stati compagni per ben tre volte, però il mio ricordo più bello di Federico è quello del suo primo anno a Cesenatico dove lui aveva penso 13 anni o 14 anni, ero più piccolo da compagnia, io ero il più grande, ero già al mio primo anno fuori dagli juniores, avevo preso questo ragazzino piccolo, minuto, ma molto sveglio, con un'intelligenza molto attiva, un po' come piccolo fratellino e mi ricordo questo aneddoto dove lui ogni momento libero mi chiedeva se lo volevo portare in sala giochi per giocare assieme e mi ricordo appunto che per noi il sabato consisteva andare in sala giochi e giocare, giocare proprio assieme e questo è stato un momento che porto nel cuore perché Federico era un ragazzo vivo, bello, sempre disponibile verso tutti, era un amico, era un grande compagno, era un grande compagno di squadra, era bello averci all'attorno e quindi mi piace ricordare questo ragazzino che muoveva i suoi primi passi nel mondo del tennis, il più piccolo del gruppo però già si poteva vedere la sua vitalità, la sua voglia e quindi gli mando un grande abbraccio, mando un grande abbraccio alla famiglia. Un altro bel ricordo del periodo juniores, giunge da Uros Vico, ex top 200, oggi ottimo coach, ci ha raccontato un aneddoto di un match under 14. La prima volta che ho visto Fede è stato al torneo di Casinalbo, torneo degli osservati under 14 a gennaio dove c'erano tutti i più forti diciamo dei under 14 in Italia e lui era chiaramente la testa di serie numero uno, era il più forte di tutti, io ero un anno più piccolo, negli ottavi, l'ho incontrato, mi ricordo di quella partita un match che ho giocato benissimo e alla fine però come tante volte è capitato lui è riuscito a vincere 7-6 al terzo andorando un match point, facendomi la sua solita talluzzata al momento importante. Fede mi manca, mancano tutti noi, mi mancano tante cose e un'altra cosa che mi manca tantissimo sono le sue partite storiche con Kohlerer che tutti noi guardavamo sempre, volentieri. Facciamo un salto avanti nel tempo, parliamo dei tanti viaggi in giro per il mondo alla ricerca di punti ATP ma anche di esperienze al di fuori del campo come ricorda Massimo Dell'Acqua. Un ricordo, uno dei tanti, che mi viene in mente fu quando ci trovammo io con un volo da Milano, lui un volo da Roma a Bangalore in India e la sera non volle rimanere in hotel a mangiare ma cercò di convincermi e di uscire e andare in centro a cena e a fare un giro, un movimento e via dicendo. Io mi rifiutai categoricamente dato il viaggio, la situazione e niente non ci fu la possibilità di convincerlo. Provò in tutti i modi a cercare di portarmi fuori anche a Bangalore ma alla fine io rimasi in hotel e lui andò e tornò poi dopo cena contento che aveva comprato i fularini da fare i regali, da regalare un po' ai suoi amici e familiari. Chi ha accompagnato Federico in tante trasferte da junior e da professionista è stato coach Fabrizio Fanucci che ha fatto pervenire un bellissimo ricordo a tinte nerazzurre. I ricordi di Federico sono tanti e mi posso ricordare solo che ero con lui quando fece finale all'avvenire e aveva solo 15 anni, ero con lui quando batté Safin all'ADR in Florida, ero con lui quando fece l'Espluat e vinse il suo primo challenge a Bombay e così via di seguito fino a quando fece quarti di finale a Barcellona venendo dalle qualificazioni. E da quel giorno tutte le volte che entrava in campo voleva che gli dessi uno schiaffo sul cuore perché lo faceva anche Cooper a ogni giocatore dell'Inter, lui era un noto interista, anche io ero un po' interista, devo essere sincero. Ed ero con lui quando fece la sua prima vittoria in Coppa Davis, esordì ad Helsinki vincendo una partita dal quinto annullando un match point con un ace di seconda palla. Era un ragazzo molto generoso, particolare ma generosissimo. A proposito di viaggi, coach Claudio Pistolesi ha raccontato di come facevano squadra lui e Luzzi nella scelta particolare dei ristoranti, in particolar modo a New York. Vorrei ricordare Federico Luzzi a New York perché ricordo benissimo che quando c'era da decidere dove si andava a cena la sera col gruppo di italiani che giocavano gli US Open, lui voleva sempre andare in un posto che si mangia la carne che si chiama Tad e si mangia molto bene la carne e costa poco e io facevo squadra con lui perché la carne piace molto e quindi vincevamo sempre noi e si andava molto molto spesso lì e ogni volta che ci passo davanti a Times Square da Tad, mi ricordo Federico che lo leggo a quel posto lì, a quel torneo lì, non solo quello ma lì in particolare perché facevo squadra con lui perché volevamo andare la sera lì e vincevamo sempre. Quindi continua a vivere con noi e ho questo caro ricordo di lui in tanti altri posti ma questo in particolare è molto forte. Un abbraccio a tutti e alla mamma Paola. Luzzi non era eclettico e spettacolare solamente sul campo da tennis ma anche in altri sport come raccontano prima Fabio Colangelo e poi Simone Vagnozzi, oggi coach del circuito professionistico che hanno visto tanti torne insieme a Federico, molti dei quali con parentesi calcistiche. Un ricordo su Federico Luzzi, difficile, ce ne sarebbero tanti per non cadere nel banale ti direi una partita di calcio tra giocatori di calcetto nel Challenger di Olbia del 2002 mi pare, in cui la sua straordinaria voglia di divertirsi in tutte le situazioni gli fece fare una giocata con decine e decine di doppi passi nei confronti dell'avversario di turno e dopo averlo veramente rimbambito di doppi passi lui al posto di passare la palla, dribblar che l'avversario provava a tirare, si fermò, prese la palla in mano e la diede all'avversario come a dire, ti ho preso in giro, basta per me, finisce qua, sono soddisfatto così potete continuare voi l'azione. Fu un episodio molto divertente visto dal campo che è uno dei tanti episodi, faceva capire veramente la grande solarità di questo ragazzo che manca che manca veramente a tutti. Quello che mi ricordo di Federico era soprattutto la sua brillantezza e la voglia di essere sempre il migliore, di vincere, mi ricordo grandissime sfide a Pittino, a Calcetto dove ci impegnavamo alla morte per vincere, quelle sono le cose che più mi ricordano Federico. Era una persona veramente brillante, intelligente e perspicace. Questo è quello che più mi ricordo di Federico. Una delle grandi imprese sportive di Federico Luzzi ebbe luogo in Finlandia. L'Italia di Davis con capitano Barazzotti si recò in Scandinavia con due settimane di anticipo per preparare al meglio la sfida con una squadra tutta nuova, era il 2001. Vincenzo, Santopadre, Mosè Navarra, Filippo Volandri e appunto Federico Luzzi. Federico esordì in nazionale vincendo in singolare contro il finlandese Liucco con il seguente punteggio 6476 4636 1412. Il ricordo di quella trasferta, ma non soltanto, è affidato alle parole di Filippo Volandri e Vincenzo Santo Padre. Io e Federico ci siamo conosciuti da piccolissimi. Lui avendo un anno più di me è stato un po' quello che mi ha trascinato negli anni perché lui da piccolo era molto molto più forte di me. Insomma ce l'avevamo tutti come grande esempio di lotta in campo, di un giocatore che aveva, di un essere umano che aveva una grandissima personalità. però la condivisione maggiore che abbiamo avuto, il ricordo forse più bello, è stato che per entrambi abbiamo esordito in Coppa Davis due settimane di raduno in Finlandia. Lui esordì prima di me appunto in Finlandia e io poi esordì nella partita successiva a Roma al Foritalico contro la Croazia. In entrambe le occasioni ci siamo stati molto vicini perché eravamo un gruppo completamente nuovo, eravamo tutti all'esordio e questa è sicuramente una delle esperienze che abbiamo condiviso insieme che ci hanno segnato nella nostra carriera ma soprattutto nella nostra vita. Questo è stato sicuramente il ricordo che mi tocca di più. Mi chiedi un pensiero su Federico? È abbastanza emozionante parlare di lui perché comunque la sua storia penso abbia toccato tutti e abbia toccato tantissimo coloro che hanno avuto la fortuna e il privilegio di poter entrare un pochino più in contatto, in confidenza con lui, con la sua persona, con la sua personalità, col suo modo di essere. Io mi sento tra coloro che hanno avuto, tra i tanti, probabilmente perché poi con lui era facile avere un rapporto che per ognuno era speciale ed unico e penso che proprio in questo sia stata tuttora la sua grandezza perché comunque riparlare di lui evoca comunque sempre emozioni forti. Di emozioni forti mi hai chiesto di qualche aneddoto, il primo che mi viene in mente ovviamente è quello relativo alla trasferta in Finlandia in Coppa Davis nell'aprile 2001, facciamo un ritiro molto lungo, eravamo insieme con la squadra, c'era Filippo Olandri, c'era Mosè Navarra e ti devo dire che non lo so, a me sarà che probabilmente ero il più anziano, il più vecchietto, però si era creato con tutti e tre i ragazzi un rapporto speciale che conservo e custodisco e che tuttora ogni volta che rivedo Mosè, Filippo, che ripensa Federico c'è sempre qualcosa in più e quindi quella è stata un'esperienza bellissima con un ritiro molto lungo e poi mi ricordo ad esempio che Federico era un grande appassionato di calcio, calcetto, facemmo una volta un torneo, lo inserì in una squadra di calcetto a Roma e mi ricordo in una partita ci divertimmo tantissimo, poi venimmo squalificati perché io lo feci giocare ma in realtà non era nella lista iniziale, però pur di giocare insieme mi ricordo che quella sera giocavamo, mi ricordo anche di una partita sempre di calcetto a Sassuolo durante il torneo dove lui faceva faville e insomma ci divertimmo tantissimo e i ricordi sono tanti e insomma mi fa sempre piacere poter condividere con chiunque qualche ricordo di una persona che comunque ci ha dato penso tanto a tutti. Federico era sempre pronto a fare scherzi ma ogni tanto era anche costretto a subirli come è normale che sia, questo racconto di Giorgio Garimberti è decisamente da non perdere. Sai trovare un un aneddoto su Federico è veramente difficile perché ce ne sono veramente tanti, è come quando ti trovi il menu davanti con tantissime cose non sai cosa scegliere, Federico è una persona unica nel suo genere, è un carattere particolare molto bello molto generoso e io personalmente ho legato tantissimo a dei ricordi indelebili, ho passato tantissimi tornei con lui è stato un bellissimo periodo della nostra vita eravamo un bel gruppo ma di aneddoti ce ne sono troppi mi viene in mente nel 2001 quando lui era sponsorizzato Prada ed era una novità allora giocavamo in Coppa Devis contro la Croazia, io, Navarra, Volandri e appunto Luzzi. Gli arriva la spedizione di Prada noi la intercettiamo e dal momento che tutti volevano la roba di Prada e praticamente gli abbiamo fatto sparire due cartoni di roba e lui è impazzito perché non trovava più la roba allora a questo punto la gag è stata che alla sera ci siamo presentati tutti a cena è arrivato noi eravamo già a tavola aspettarlo completamente tutti i vestiti di Prada e allora lì è venuta poi fuori la gag e ci siamo mai seduti a ridere e comunque ce la siamo tenuti la roba per la cronaca a parte gli scherzi dai sono passati dieci anni però ogni volta che penso a Federico è come se fosse ieri che eravamo insieme a divertirci e a stare insieme a giocare a tennis ad allenarci e manca manca l'ambiente perché è una persona che particolare caratterialmente nel senso positivo è unica nel suo genere e ci manca in queste ore tante persone stanno ricordando Luzzi e tante altre in questi minuti stanno continuando a inviarci messaggi vocali e semplici frasi per ricordare Federico come fatto in questi minuti anche dall'attuale numero uno azzurro Fabio Fognini che non è voluto mancare all'appuntamento in questa importante ed emozionante giornata nel salutarvi e darvi appuntamento ad altri contributi che vi faremo ascoltare nelle prossime ore vogliamo ricordare anche un altro tennista che nel 2011 tre anni dopo Luzzi a soli 20 anni morì a causa di un tumore che lo portò via in pochissime settimane il suo nome Andrea Stucchi Luzzi e Stucchi avevano in comune tre cose l'amore per il tennis uno splendido rovescio a una mano e il sorriso che davvero non mancava mai un abbraccio allora a tutti gli amici di Federico alla famiglia in particolare a mamma Paola Federico Luzzi vive nei ricordi di tutti quelli che l'hanno vissuto dai suoi colleghi fino ai semplici appassionati che non aspettavano altro di questo sono testimone oculare soprattutto al fuoritalico di esaltarsi per la più classica e intramontabile luzzata